ooooh non vado adesso pane adesso pane adesso pane non vedo più perchè sono tutto appannato il cazzo di occhiali sono andato con me? no non parto non sento le gambe perchè mi sono congelato il cazzo lo spanno gli occhiali di me sempre lo stesso asforio arrivo e arrivo io 25 macchine sempre così no vaffanculo porca troppo ooooh 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 che bello ho un video in cui non vado di qua però è bello mi piace ooooh ooooh ma fa pure devo tenerla aperta che se mi appanna se no ooooh ooooh teoricamente non si dovrebbe sorpassare così ooooh però non è un sorpasso eh brugli di cazzo eh ma che cosa l'avevo messo a lui ma che cosa l'avevo messo a lui guarda che cosa l'avevo messo a lui guarda che cosa l'avevo messo a lui basta ho fatto una roba troppo epica non va bene ma quella cazzo di acqua per terra ma io ho appena mangiato non ho controllato questo parcheggio registra dai va bene però si in effetti in effetti quanto sono belli i cittadini rompicoglioni ok con la pozzolina nostra via diffusa in effetti adesso pare adesso pare adesso pare orca m**** no mi sono cadato in mano non ho sentito più la moto madonna non sento più il cuore ti sei cagato sotto no 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 non sentivo più cioè sono caduto ma infatti mi sa che ho il ma forse acqua no no aspetta io sono andato ho frenato leggermente boho partito non sentivo più niente proprio niente io ero al 100% sicuro di essere caduto ormai non so come ho fatto a star su no riusciamo e come si esce? si che figa non è assa stavolta dai guarda eh si 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 ma perchè? lo rifacciamo riscendiamo e risaliamo dai che bello sono le 5 e 56 meno un'ora quanto noi siamo esperti facciamo così le brave persone noi sono molto affiliato ai maschiappisti quindi posso continuamente fare così ahhh 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 così adesso anche com'è che si vede la Xiaomi al buio ahhh è una macchina che mi sa che è rimasta a piedi perchè è una filina molto brutta ai 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 ricatta le fasce amico mio bruciate non è che si possa bruciare però ahhh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.